Buonasera ai nostri telespettatori, benvenuti all'appuntamento con Il Fatto, continuiamo a parlare e a commentare soprattutto il risultato elettorale in Abruzzo delle regionali, lo facciamo in questi giorni ospitando soprattutto i nuovi consiglieri regionali eletti dagli abruzzesi. Salutiamo e ringraziamo Luciano Marinucci, buonasera Marinucci, buonasera a voi, esponente eletto in consiglio regionale nella circoscrizione di Chieti per la lista Marsilio Presidente, quella coordinata da Terenzio Rucci che ha un po' rappresentato la vera sorpresa di questa campagna elettorale negli equilibri interni alla coalizione di Marsilio. Un grosso risultato, anche un grosso risultato personale per lei Marinucci che è stato, se non erro, il primo candidato di tutte le liste del presidente Marsilio a presentare la sua candidatura addirittura in tempi non sospetti, ha subito aderito a questo progetto civico e politico allo stesso tempo. Sì, effettivamente è stato un percorso lunghissimo, intanto approfitto per ringraziare Terenzio che ha creduto sin da subito nella mia persona e quindi ho iniziato una campagna elettorale sapendo benissimo che correre con una lista civica sarebbe stato molto più difficoltoso per non correre con una sigla di partito. E quindi un lavoro che mi ha portato a visitare gran parte dei paesi, ho preso oltre il 50% dei comuni, un voto diffuso addirittura in alcuni comuni, 1, 2, 5, 7, dove mi sono seduto nei bar che sono la mattina gli unici punti di aggregazione e discutendo o inserendo piano piano una discussione ho cercato di far capire le ragioni per le quali bisognava andare a votare prima di ogni cosa e sposare un'idea e un progetto. La storia oggi vuole che San Giovanni Teatino abbia un suo rappresentante in Consiglio regionale e che comunque ha una particolare attenzione anche per i centri un po' più, diciamo, tra virgolette, lontani dalle scelte delle decisioni. Chi si sente di ringraziare per questo risultato anche personale? Peraltro arrivato dopo un periodo in cui lei è stato lontano dalla politica dopo i due mandati alla guida della città? Sì, sono stati. Intanto ringrazio sicuramente i miei cittadini perché la spinta maggiore me l'hanno dato loro ed è stato un grande abbraccio della collettività di San Giovanni Teatino sulla mia persona e su chi mi ha sostenuto. L'amministrazione comunale o parte dell'amministrazione comunale sicuramente l'ha fatto, credo che l'abbia fatto anche in un'ottica di dare a San Giovanni Teatino l'idea di avere una compattezza amministrativa e comunque ringrazio mia madre su tutti perché mi ha seguito in quasi tutti gli appuntamenti e addirittura ha curato anche la dieta della campagna elettorale come se fosse un'atleta. Non mi doveva appesantire perché di solito lei ritiene che quelle persone si appesantiscono quando fanno campagna elettorale. Sprendi da forma Marinucci, sua madre sta benissimo, giovanissimo lei, ma paradosso vuole che lei sia il consigliere anziano di un consiglio regionale giovanissimo peraltro e quindi dovrà essere lei a inaugurare la nuova consigliatura. Io penso che quello sia un giorno che lei ricorderà per sempre. Ma sicuramente sì, mi viene da ritare pensare, io ancora accetto il fatto di essere un ultra 64enne a breve 65enne con un'indole 18enne perché comunque lo spirito è la cosa più importante che può accompagnare una persona in un percorso di vita che ormai comunque 65 anni, le cose più importanti le ho fatte. Adesso ho intenzione di dedicarmi pienamente alla gestione di questo incarico e quindi sì, effettivamente dovrò aprire i lavori del consiglio regionale, non come consigliere anziano che è il più votato che lo convoca, ma io che guido le elezioni del presidente e quindi vedremo insomma, faccio difficoltà ma è così. Intanto applaudiamo al fatto che gli abruzzesi hanno votato tutti i giovani da questo punto di vista, perché se il più anziano è lei, insomma è un consiglio regionale in piena salute e anche in piena gioventù. I due dati politici di queste elezioni, l'astenzionismo e il fatto che poi gli abruzzesi abbiano avuto fiducia nuovamente in Marco Marsiglio, lei come li legge adesso che è passato qualche giorno? Guardi, io credo che intanto una lettura principale va data al fatto che una linea diretta con un governo nazionale è sicuramente un vantaggio per chi fa politica, perché è ovvio, noi abbiamo vissuto anni e anni di gasparismo dove le decisioni che si prendevano a livello locale poi arrivavano magari filtrate ma anche a livello centrale, non a caso Gaspari tanto fatto per l'Abruzzo proprio perché aveva questa linea diretta, consiglio regionale, provincia, comuni e governo nazionale. Penso che questo sia uno degli elementi più importanti. Poi l'altra domanda riguarda l'astenzionismo. L'astenzionismo. Io mi sono tra virgolette prodigato nella mia campagna elettorale a far capire ai cittadini che quello che succede in Francia è di insegnamento, è un modello. I francesi vanno compatti a votare e poi scendono compatti in piazza quando il governo non soddisfa le esigenze o quello che avevano promesso. Astenersi dal voto significa in un modo o nell'altro non partecipare alla scelta che poi domani verranno fatte da quelli che per minoranza andranno a gestire, in questo caso regioni, comuni o altri enti. San Giovanni Teatino è stato al centro anche di un tema particolare di questa campagna elettorale, vale a dire il raddoppio della ferrovia tra Pescara e Roma. Peraltro su San Giovanni c'è proprio un progetto di interramento parziale del nuovo tracciato. A suo avviso ci sarà la reale partenza di questo cantiere? Perché voi insomma passate le elezioni, passate anche gli scontri dialettici, si tratta di entrare nel merito di quest'opera e soprattutto farla condividere dai cittadini. È successo questo nella sua città? Allora è ovvio che questo è un percorso che ha delle fasi tecniche da avviare, io ci ho creduto dal primo giorno, tenga presente che il primo atto che è stato fatto sull'interramento della ferrovia l'ha fatto la mia amministrazione su una previsione di piano dove in una conferenza di servizi addirittura la ferrovia dello Stato non è nemmeno venuto e dove il genio civile invece ci ha dato anche parere favorevole. Quindi un interramento è sicuramente possibile in termini ingegneristici, va trovata la condizione per poterlo realizzare. Su Ferrovia dello Stato ci sono stati una serie di incontri dove la fattibilità dell'opera è stata anche certificata da un progetto preliminare, uno studio fatto da Ferrovia dello Stato stesse, però successivamente sono sorti alcune problematiche sul fatto di dover interrompere il flusso dei treni perché un interramento prevede lo stop nel passaggio dei treni su San Giovanni Tiatino e quindi per Pescara. Allora le nostre intenzioni quali sono? Io credo che in ingegneria si può realizzare tutto quello che è possibile, se immaginate che in epoca trascorse quando costruirono la piramide in Egitto è un'opera ancora oggi inspiegabile con i mezzi di allora, figuriamoci oggi a interrare un pezzo di ferrovia che passa per circa 800-900 metri al centro di San Giovanni Tiatino che tanto ha dato allo sviluppo dell'area metropolitana, voglio ricordare in ultimo l'allungamento dell'aeroporto, l'assa attrezzato, quindi sono tutti dei trattori che vanno in un modo o nell'altro portati sul tavolo. Il raddoppio ferroviario è un'opera altamente impattante, quindi è previsto per legge una mitigazione dell'impatto, bisogna sedersi a un tavolo, fare richieste sostenibili e sono sicuro che non potrà far altro che ascoltare la collettività San Giovanni Tiatino ferrovia dello Stato e quindi partiranno a breve delle consultazioni che è un passaggio obbligato e quindi andremo a vedere. Io sono sicuramente vigile sulla realizzazione di quest'opera e tutelerò in tutti i modi la collettività di San Giovanni Tiatino, chiedi Scalo anche, perché è pensabile che un intervento di questo tipo possa essere esteso. Io credo che bisogna restituire il territorio agli umani e cercare di portare le macchine il più lontano possibile. Certo, abbiamo parlato di questo tema, lei è stato sindaco di questa città, però lei ha fatto anche un altro ragionamento. Bisogna allargare gli orizzonti perché poi anche lei ha preso voti in tutta la provincia, lo ricordava, ma questo Consiglio regionale potrebbe essere quello in cui cambia la legge e voi che sedete su quei banchi dovete avere una visione un po' meno legata al territorio di riferimento elettorale. L'Abruzzo sotto questa sfida che è stata lanciata proprio dal Presidente Marsilio di riformare i collegi è pronto per questo salto di qualità della politica, secondo lei? Guardi, se il Governatore ha fatto questa scelta, sicuramente l'ha fatto perché ha una visione diversa da quello che è oggi sia la legge regionale, ma anche il modo con cui vengono eletti i consiglieri. Io credo che ci sono zone e territori che non hanno ad oggi rappresentanti, quindi mi auguro che ci sia la gara per cercare di dare risposte in quelle parti del territorio dell'Abruzzo che tanto bello è, ma in alcune zone probabilmente non è seguito come merita. Quindi questo progetto di modifica della legge regionale sicuramente dovrà guardare anche a questo in particolare. Quindi attendo di poter discutere sulle carte quello che è il reale progetto del Governatore e sicuramente io che sono un uomo di squadra cercherò di fare anche questo supporto, però bisogna stare molto attenti perché le zone periferiche dell'Abruzzo rischiano di, oltre allo spopolamento, anche una minima considerazione. Dal punto di vista personale c'è un punto forte della sua campagna elettorale che lei intende tradurre come il primo disegno di legge firmato da Luciano Marinucci nella nuova legislatura? Guardi, mi verrebbe facile dire, io sono un ex dipendente della ASL in pensione da circa due anni, sono stato veramente al fronte, conosco i problemi della base del sistema e credo che una prima iniziativa proprio per evitare i grandi afflussi presso i pronto soccorsi e la deospitalizzazione, le case della salute e quindi il potenziamento delle strutture sanitarie sul territorio, riattivare quella di Chieti, Chiediscalo per esempio e quindi lavorare su quelle che sono le prime necessità dei cittadini che ovviamente piuttosto che andare in ospedale allungare quelle file cleometriche, cercare di portare sul territorio il più possibile la diagnostica strumentale e le esigenze primarie, per esempio mi viene da pensare i prelievi sanguigni che sono ormai la base sulla prevenzione, queste cose che sono le più semplici ma che se oggi andiamo a vedere, dati alla mano, creano delle lungaggini burocratiche e non mettono il cittadino in condizioni di curare la propria salute. Gliela avranno fatta in tanti questa domanda in questi giorni, non soltanto i giornalisti ma anche i semplici cittadini, magari coloro che l'hanno sostenuta e che le sono più vicini. Luciano Marinucci nel momento in cui la lista Marsilio Presidente comunque dovrà avere una sua rappresentanza all'interno dell'esecutivo o comunque della compagine di governo allargata ha una sua ambizione di far parte in qualche modo della squadra oltre che di maggioranza anche di governo di Marco Marsilio? Guardi, io sono stato 10 anni sindaco, veramente consigliere comunale al 1989, ma negli ultimi 10 anni ho capito che il sindaco delega a risolvere alcuni problemi, a seguire alcuni problemi che lui non potrebbe seguire, quindi l'assessore è un delegato del governatore, sicuramente lui dovrà rispettare alcuni equilibri politici e alcune attitudini, alcuni processi già in atto che dovranno sicuramente essere portati a compimento. Io ho avuto un colloquio telefonico col governatore Marsilio per il momento perché non ancora c'è la programmazione, quindi aspettiamo la programmazione e l'unica cosa che gli ho detto è che sono un uomo di squadra, sono abituato a fare squadra e nella mia amministrazione non sono stato il capo, ma sono stato il leader di una squadra e che è la logica che dovrebbe muovere tutti i concetti dove ci sono più persone da mettere assieme, più intelligenze, più professionalità per dare il miglior risultato e vedo bene il concetto di una squadra di calcio dove scende in campo quello che sta più in forma, quello che è utile a un risultato e se il risultato non arriva è giusta la sostituzione, quindi quando si gioca si deve saper giocare di squadra e io questo voglio fare, quindi le mie ambizioni sono tendenzialmente proporzionate a quello che il governatore deciderà di farmi fare. Bene, io ringrazio Luciano Marinucci, complimenti ancora per il risultato personale per le elezioni del Consiglio regionale che ripetiamo aprirà nella sua nuova legislatura, sia pure per qualche minuto sedendo sullo scranno più alto. Naturalmente aspettiamo anche le proclamazioni degli eletti come giustamente diceva perché sono gli ultimi conteggi, però è chiaro che la lista Marsilio Presidente è anche un brillante risultato ottenuto in particolare in provincia di Chievi, non mette a rischio questo ruolo. Grazie, grazie a lei. Grazie a voi quindi tre record, il più anziano, il Presidente per un giorno e il Consigliere eletto per la prima volta a San Giovanni Tadino, insomma mi posso ritraire abbastanza fortunato. Mi pare che la notizia ci sia e sia stato giusto darla con il dovuto approfondimento ai nostri telespettatori del Fatto, che torna domani alla stessa ora ancora con un altro neoconsigliere regionale eletto in Abruzzo. Arrivederci.